Jin, è davvero buono! Zafina e Claudio? L'antico demone Azazel è stato sconfitto da Jin Kazama Adesso è sigillato nella tua mano sinistra Ma siamo ancora in danger dell'annihilation Jin Kazama ha perduto la sua luce E il gloria di Kazuya Mishima è diventato più forte Vuoi dire che sarà Kazuya Mishima Colui che distruggerà il mondo To prevent this fate We must seek Jin Kazama Anno Vatasi mu,連ete i tec da sai Zafina san! Jin! Che sa si chiudereci? Eva? Che non è stato ci? In... Jin Kazama Che... 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 E questo ti mostrerà un passaggio, un passaggio, che finalmente ti freddo di malattie. È l'inizio di me. Ie-Chin, il拳 di風? È l'Oxima? Tu sarai una stella stella di speranza... per tutti. Tu devi vivere. Per il mondo. Per coloro che ami. Jinkazza, la tua forza non basta per sconfiggere quel demone. Ascoltami, devi seguire le parole di Zafina. È importante che tu torni all'origine. Non c'è nulla, non c'è nulla. Eccelent Eccelent la palla la palla il 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 la lignée principale de la famiglia kazama a été exterminé par quelqu'un qui a attacé yakushima jun kazama a disparu oui oni je Sì. Grazie a tutti. 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 Per la luce di Sirio. Grazie a tutti.